Inverno, tutti vanno in letargo, ma a gennaio c'è una specie che non dorme. L'automobilista ha fiutato l'affare. Pensate, può scegliere l'auto il veicolo commerciale Fiat che preferisce, trattenendo fino a 15 milioni, che pagherà comodamente in 12 mesi a interessi zero. Ecco un altro automobilista. Anche lui detesta ferocemente i tassi, specie a quelli di interesse. Il suo istinto lo porta a trattenere fino a 15 milioni, che pagherà con rate fino a 36 mesi al tasso del 9%. Gennaio Fiat è il momento di comprare.